I medici dell'ospedale di Sulmona hanno ritenuto opportuno trasferire nella notte Angelo Amori presso l'ospedale di Terni, dove con ogni probabilità verrà sottoposto all'intervento chirurgico per i traumi riportati in seguito al brutto incidente in cui è rimasto coinvolto ieri pomeriggio. L'uomo che viaggiava a bordo della sua Fiat Panda è stato infatti travolto da una Mercedes nera classe A, che ha invaso la sua corsia di marcia all'altezza dell'incrocio tra via Cappuccini e alcune frazioni cittadine. Amori, medico e fisioterapista presso il nosocomio cittadino, è noto anche per aver ricoperto in passato l'incarico di consigliere comunale e sindacalista della funzione pubblica per la UIL. Il medico ha riportato fratture ad entrambi gli arti inferiori, la frattura di due costole e un trauma alla testa, e proprio in virtù del trauma cranico è stata presa la decisione del trasferimento nell'ospedale di Terni. Dopo l'incidente di ieri è tornata la paura tra i cittadini, che considerano quell'incrocio molto pericoloso. Il comune di Sulmona ha più volte sollecitato ANAS e provincia per chiedere la realizzazione di una rotatoria con dissuasori, proprio per evitare che si verifichino ancora incidenti del genere.